Stati Generali del Vending 2023, l'evento annuale che si svolge ogni anno nella sede di Camera di Commercio a Piazza Gioacchino Belli 2 a Roma è appena terminato e siamo con il Presidente di Confida, l'Associazione Italiana Distribuzione Automatica, il Dottor Massimo Trapletti Massimo, buongiorno Buongiorno a voi, buongiorno e grazie ancora per essere con noi in queste assisi, molto importante per il nostro settore e che oggi ha dimostrato ancora la leadership del nostro settore del vending a livello europeo e mondiale Facciamo un riepilogo di quello che è successo nelle ultime quattro ore È stata una cosa abbastanza impegnativa, noi oggi abbiamo il nostro claim, oggi era vending al centro vending al centro dove abbiamo esposto le problematiche del vending in Italia le problematiche che si stanno palesando in Europa che arriveranno anche in Italia abbiamo invitato ben 9-10 politici che sono venuti e sono intervenuti sia in video che in presenza e la cosa positiva era la sala piena, l'interesse da parte di tutto il settore, di tutti gli attori della filiera e vending al centro ha voluto dire per noi far parlare tutti i presidenti di tutte le categorie all'interno della nostra filiera in modo che anche i politici potessero capire le sfaccettature del nostro settore e l'importanza che ha il settore per l'Italia a livello mondiale C'è uno degli argomenti di cui ci attendavamo qualche notizia in più che nel frattempo non è stato assolutamente nominato la questione legata al divieto di utilizzo delle palettine di plastica che nell'ultimo anno è praticamente scomparso dalle agende della politica Sì è vero, ho parlato con più attori oggi che producevano palettine soprattutto e che si lamentavano giustamente della situazione qualcuno mi diceva che si stavano trasformando in puri commerciali comprando materie prime dall'estero e poi rivendendole in Italia oppure cercando di innovare anche nel settore delle palettine con le palettine di carta ma costano molto di più rispetto a quelle di plastica prima e quindi facciamo fatica a venderle e quindi siamo in difficoltà è un argomento molto sentito nel settore perché come tu sai e come sanno sicuramente chi ci ascolta la palettina è un prodotto tecnico e senza palettina non si riesce a miscelare lo zucchero nel caffè che è il 60% delle vendite totali nel nostro settore è un problema ancora grave che si cercano delle soluzioni che possono essere alternative ma con problemi tecnici perché le palettine di legno o di carta fanno fatica ad essere servite in automatico dal distributore perché sicuramente non sono planari come lo erano quelle in plastica che era un prodotto tecnico quindi è un segmento della filiera che si sta trasformando in peggio per quanto ci riguarda ma siamo stati condizionati dalle regole europee e speriamo che qualcosa si possa fare anche per questa società e allora grazie Massimo Trapletti il presidente di Confida vi ricordo che l'intervento del presidente Massimo Trapletti sia di inizio sia in conclusione dell'evento insieme a tutti gli altri intervenuti li potrete trovare su vendingnews.it e vendingtv.it a partire dal giorno 13 novembre 1-2 al giorno riuscirete a avere a disposizione i filmati in modo singolo e quindi non più come una volta in una lunga maratona di interventi in questo modo potrete vedere agevolmente tutto ma proprio tutto a vostra scelta Massimo Trapletti ancora grazie Grazie, grazie per dare questa testimonianza di essere presenti, registrare e comunicare anche all'esterno a chi non ha potuto partecipare l'importanza di questi eventi noi di Confida ci mettiamo tutta l'anima per far sì che questi eventi vengano nel modo giusto e soprattutto riuscire a trasferire ai responsabili delle istituzioni proprio l'importanza di questo settore i suoi fatturati, le persone che girano intorno al vending che sono più di 33 mila le imprese, i produttori di macchine che abbiamo chiesto per esempio ai politici di tutelare dalle importazioni dei mercati esteri che non rispettano le nostre regole europee e speriamo che il mondo del vending rimanga sempre quello che è e che la capacità che abbiamo oggi rimanga anche in futuro per garantirci questa leadership grazie a tutti